Forme oltre i tuoi occhi. Alla Casa dell'Energia di Arezzo l'ottavo appuntamento della rassegna annuale, una mostra itinerante in memoria di Anna Maria Zurli. Ad esporre in questa mostra Luca Cacioli, Giacomo, Lazzeri, Tiziana Mudu, Silvia Peruzzi, Cesare Dragoni, Caterina Montanelli e Andrea Della Bartola. Direi che questa ottava edizione è veramente ricca di artisti, ricca anche di modalità di espressione dell'arte che vanno dalla fotografia alla pittura e anche alla presenza di volti, perché oggi questa mostra appunto è chiamata forme e molte volte si rifà anche alla forma del volto e a quello appunto che caratterizza anche un po' la composizione dell'individuo che è una parte esterna, quindi un volto e un'anima. Questa mostra io ci sono anche molto legato dal punto di vista sentimentale, sia appunto il ricordo di Anna Maria Zurli sia anche un buon auspicio per Casa dell'Energia per l'inizio di un 2024, speriamo di ottima fattura. Coinvolta nell'iniziativa anche AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi. Non possiamo mancare a questo fantastico appuntamento in memoria della signora Anna Maria, perché come famiglia condividiamo con Andrea Zurli, i suoi nipoti, i suoi parenti, l'ebbrezza che procura poter fare qualcosa in memoria di una persona molto amata che è scomparsa purtroppo per una malattia, quindi noi l'abbiamo fatto per Federico e partecipiamo volentieri a questa bellissima mostra annuale che tra l'altro ospita AIL Arezzo Federico Luzio TV, quindi siamo nel cuore ad Andrea, Luca e ai loro cari.